Anche quest'anno la FASM, l'Associazione Famiglia e Salute Mentale, è tornata al Teatro del Giglio con lo spettacolo del gruppo Esci con noi. Titolo della performance teatrale, musica, gesti e parole sciolsero il ghiaccio dal cuore. La serata è stata dedicata alla memoria di Elvino Piletti, socio fondatore dell'associazione, improvvisamente scomparso a marzo. Lo spettacolo riprende il racconto del cartone Frozen della Disney. La protagonista, Elsa, che si isola dagli altri con il gelo delle sue emozioni, è una metafora della persona affetta da disturbi mentali. Non accetta la particolarità delle sue emozioni, che incontrollate possono provocare disastri. Questa condizione di gelo è sciolta dagli amici di Elsa e i personaggi delle fiabe, che con musica e parole la aiuteranno a vedere una realtà differente e ad accettare se stessa. I brani, la sceneggiatura e le coreografie sono stati elaborati all'interno del gruppo per creare uno spettacolo condiviso ed unico, dove ciascuno ha messo il proprio impegno e la propria voglia di divertirsi. Allo spettacolo della Fasm è seguita la commedia brillante Processo a Susanna Strip, messo in scena dalla Compagnia dei Sognatori.